Un saluto a tutti da Luca Mazzucchelli, oggi parliamo di omosessualità e delle problematiche che talvolta vivono le persone omosessuali nel rapportarsi al loro orientamento sessuale. Con me c'è Vittorio Lingiardi che è psichiatra, psicoanalista italiano, professore ordinario di psicologia dinamica presso la Facoltà di Medicina e Psicologia della Sapienza. Vittorio, ciao, benvenuto. Ciao. Allora, senti, prima domanda, comunicare il proprio orientamento sessuale al mondo per alcuni è un momento molto delicato, è sempre bene fare coming out? La domanda si divide in due parti, rispondo alla prima, è un momento delicato perché è il momento, diciamo, di conclusione di un processo in cui la persona ha fatto coming out con se stesso, è entrato in relazione con il suo orientamento sessuale, lo ha capito, ha riconosciuto, lo ha vissuto e ha deciso che può parlarne anche con altre persone. È delicato perché in un mondo, fortunatamente sempre meno, però insomma segnato storicamente dallo stigma nei confronti delle persone omosessuali, non sempre è sicuro l'incontro con una risposta di accoglienza o anche di normale presa d'atto di questa realtà e quindi diciamo c'è un elemento di delicatezza che ha a che fare con il percorso compiuto e un altro che ha a che fare con l'ambiente che accoglierà questa informazione. Io penso che sia sempre bene fare coming out, ma penso anche che ciascuno abbia il suo tempo, il suo momento e la sua storia. Senti, prima hai detto che prima di tutto bisogna comunicarlo a noi stessi, ok? Per alcuni è più facile rispetto ad altri accettare il proprio orientamento sessuale. Come mai questa differenza? Io credo che l'accettazione del proprio orientamento omosessuale, perché l'accettazione del proprio orientamento eterosessuale è data per scontata e in questo ti ho in parte risposto. In realtà dovrebbe essere che ciascuno accetta il proprio orientamento sessuale, punto, perché l'orientamento sessuale è una cosa che capita e nessuno sa perché una persona è omosessuale, una persona eterosessuale. Il coming out è anche un momento che segna forse un passaggio che possiamo descrivere così dalla presa d'atto della propria omosessualità alla scelta di essere gay o essere lesbica, cioè di riconoscere che l'orientamento sessuale implica anche un'identità sociale, una comunicazione pubblica e quindi in questo senso per alcune persone può essere più facile, per altre può essere più difficile. Perché? Per l'ambiente e la cultura e soprattutto direi la risposta familiare. Noi sappiamo che c'è un rapporto, lo dicono le ricerche, estremamente positivo tra la serenità del proprio coming out e l'accettazione da parte della famiglia e della comunità e invece ci sono ricerche che documentano dati anche preoccupanti come un pensiero suicidario o problematiche di benessere psicologico anche molto significative quando la scuola e la famiglia rifiutano di riconoscere e di rispettare l'orientamento sessuale e quindi la comunicazione di questo orientamento è anche legata da una parte alla resilienza personale e dall'altra parte alla sicurezza dell'ambiente. Cosa si può fare quando la famiglia non accetta questa cosa? Io partirei raccontando un episodio positivo che indica che le famiglie hanno fatto dei passi da gigante rispetto a una volta. Una volta i genitori andavano dallo psicologo dicendo ho un figlio che penso abbia dei problemi, penso sia omosessuale, come possiamo aiutarlo? Ora è più facile che dei genitori si rivolgano allo psicologo o alla psicologa dicendo abbiamo bisogno noi di essere aiutati per non fare del male al nostro figlio perché per molti genitori l'omosessualità del figlio è ancora legata all'idea di una vita infelice, l'idea di una vita stigmatizzata e anche purtroppo è legata a fattori come una vita sbagliata o una vita che dovrebbe essere in un altro modo e invece va raddrizzata. Da qui purtroppo anche la ricerca e la richiesta delle cosiddette terapie riparative, che poi terapie non sono. Io penso che da una parte è importante che si sviluppi il dialogo e che ciascuno abbia dei tempi di comprensione e di riconoscimento dell'altro. Purtroppo non sempre è possibile, questo lo vediamo in alcune storie in cui avvengono degli strappi, avvengono dei silenzi, avvengono delle finte comprensioni che in realtà poi si trasformano in disinteresse, ostilità, difficoltà di riconoscimento. A questo proposito è molto importante, è anche molto bello il lavoro dei genitori dell'agedo che possono aiutare i genitori che fanno fatica ad accettare qualcosa che ne va accettato o ne va respinto, è una cosa che esiste e c'è. Ti senti di fornirci se ci sono dei suggerimenti, delle precauzioni, delle linee guida a tenere in mente per fare coming out? Io penso che c'è un momento in cui il ragazzo o la ragazza si sente pronto per farlo. Io penso che ci siano delle persone con cui sia più facile partire da lì, possono essere degli amici, dei parenti, possono essere i genitori stessi, non ci sono delle linee guida se non la consapevolezza che la ricerca della propria verità personale e una vita non costruita attorno alla finzione o alla clandestinità è l'unica possibilità per essere sereni. Si parla molto in questo periodo di adozioni da parte dei copi omosessuali, leggi Cirinna, se ci sono delle ricerche qual è la tua idea su cosa succederà in futuro, come cambierà la società? Io penso che la società da questo punto di vista cambierà molto ma al tempo stesso rimarrà la stessa perché il tessuto sociale è composto di relazioni affettive, non è composto di relazioni differenziate in base al genere di chi vive queste relazioni affettive. Tutta la ricerca scientifica ormai da 40 anni racconta di figli cresciuti da coppie o da persone di orientamento omosessuale che non presentano delle problematicità specifiche e quello che è emerso direi da una parte è emerso che i figli hanno bisogno di essere amati e riconosciuti e quindi è vero lo slogan delle famiglie arcobaleno che poi è il titolo di una pubblicazione dell'American Psychological Association che dice «Love makes a family» cioè l'amore che fa una famiglia. Dall'altro punto di vista io credo che sia anche questa un'affermazione in un certo senso da superare. Mi spiego. L'attenzione che le omogenitorialità hanno ricevuto negli ultimi anni hanno in qualche modo spinto tutti anche a riflettere, a pensare, a ripensare a che cos'è la genitorialità, a ridefinire la genitorialità e si è visto che ovviamente l'amore e il piacere di crescere un figlio o una figlia è il nucleo centrale della genitorialità, ma ci sono tanti elementi che hanno a che fare con la possibilità di essere buoni genitori, sapere dare dei limiti, sapere contenere, sapere riconoscere i bisogni, sapere fare un passo indietro, un passo avanti in relazione alle necessità e alle caratteristiche del figlio o della figlia. Ecco, le caratteristiche della genitorialità non sono specificate dal prefisso omo-eterogenitorialità, sia buoni o cattivi genitori indipendentemente dal proprio genere. Quanto alla Cirinna per me è una legge importantissima perché comunque introduce con l'autorevolezza della giurisprudenza e della legge quindi un cambiamento importantissimo in un paese come l'Italia, arretrato rispetto a queste tematiche. Purtroppo proprio perché l'Italia è un paese arretrato una parte molto importante, cioè la possibilità di riconoscere il figlio del partner o la figlia del partner e quindi insomma le tematiche di step-child adoption e di genitorialità sono state al momento sacrificate. Io sono sicuro che presto, grazie anche al lavoro della giurisprudenza e quindi al lavoro dei tribunali, anche questa parte stralciata avrà insieme probabilmente magari a un testo più ampio sulle adozioni un suo riconoscimento pieno, ma in ogni caso credo che grazie al lavoro magnifico fatto dalla Cirinna e dal governo in questo senso che è rimasto unito attorno a questo progetto di legge molte persone si sentiranno più difese e più protette perché vivere in un paese che ti fornisce una cittadinanza di serie B significa in qualche modo autorizzare l'ostilità, la discriminazione, in una parola l'omofobia sociale. Vittorio, chiarissimo, molto gentile, grazie anche a voi per averci seguito fin qui e alla prossima, ciao!